24 ore dopo un allenamento tosto, purtroppo tutte le articolazioni l'hanno risentito, almeno con le basse, le ginocchia, le caviglie, mi stanno facendo passare dei momenti un po' così. Comunque non demordo, adesso un bel bagno freddo, poi un po' di ghiaccio sulle articolazioni, una massaggiata di voltaren prima di mettermi nel letto, domani tanta acqua e riandare perché dopo domani c'è la nuova sessione di allenamento. Non vi prometto niente, però se riesco proverò a rubare qualche minuto di video. Ci vediamo tra qualche ora per gli addominali del mattino. Ciao ragazzi e presto, ciao. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.